La prossima rivoluzione verrà vinta dai paesi, perché dobbiamo parlare di sistema paese, che avranno saputo investire in ricerca e formazione perché non possiamo prevedere oggi quale sarà la prossima rivoluzione industriale. Occorre quindi preparare persone adatte a gestire il cambiamento. La gestione del cambiamento è il futuro e quindi più investimento in ricerca, più investimento nella formazione dei giovani che saranno così in grado di affrontare nuove sfide vincendole.